Misurarsi per migliorare. È un motto all'insegna di trasparenza e programmazione di investimento quello che accompagna la presentazione delle bilancio di sostenibilità 2020 di marche multiservizi. Nell'auditorium di Via Toscana la Società di Servizi Pesarese ha presentato la rendicontazione di un anno fortemente influenzato dalla crisi pandemica offrendo una mappatura di un anno di servizi alla comunità territoriale dal comparto energetico a quello idrico dalla gestione dei rifiuti agli indicatori sulle bollette ai clienti. Le cose che vengono evidenziate nel bilancio di sostenibilità non sono solo la rendicontazione delle attività che abbiamo fatto nel 2020 ma sono anche traguardi di prospettiva a cui vogliamo tendere proprio nell'ottica delle nuove generazioni contribuendo a rigenerare e riprogettare anche il sistema di vita dei paesi e delle città. Quindi da questo punto di vista è un bilancio che noi lo chiamiamo anche di misurazione e di controllo verso noi stessi perché poi consente a tutti gli stakeholders, ai cittadini, al tessuto politico istituzionale, ai fornitori, ai clienti di leggere quello che facciamo non in termini solo numerici perché i numeri ci sono ma sono relativamente pochi ma soprattutto con la descrizione delle attività che facciamo e la loro ricaduta sia dal punto di vista ambientale che sociale ed economico ovviamente. Quindi credo sia importante ed è un documento che come dico io non è più solo un documento di rendicontazione ma soprattutto è di grande programmazione e pianificazione prospettica. Non è un caso che i primi riferimenti sono proprio i cosiddetti goals definiti dall'agenda ONU che sono circa 17 e ai quali noi abbiamo individuato tre driver rispetto ai quali lavorare che sono l'energia, l'ambiente e il territorio. E questi sono gli elementi sui quali cerchiamo di contribuire con l'operato di tutti i giorni per migliorare la qualità della vita dei nostri cittadini e del territorio stesso rendendolo sempre più competitivo rispetto anche ad altri. L'orgoglio maggiore è quello che in un momento anche fortemente critico dal punto di vista sociale così come quello della pandemia siamo riusciti a fare bene i nostri servizi e siamo comunque riusciti a dare occupazione a circa 1.100 persone sia all'interno che attraverso gli investimenti e i fornitori che lavorano per noi. Quindi credo che sia un grosso contributo a livello occupazionale in un momento particolarmente difficile. Proprio quello occupazionale è stato un elemento sottolineato anche dal presidente Daniele Tagliolini. In un anno marchiato dal Covid non si è ricorso a cassa integrazione mantenendo un 97% di lavoratori a tempo indeterminato. Un'azienda può stare all'interno del territorio con una visione che non è solo quella economica ma che ha una caratterizzazione legata anche al sociale e all'ambiente. Un approccio diverso, moderno che caratterizza fortemente anche l'approccio con il proprio personale, con i propri dipendenti che hanno dimostrato di condividere questo tipo di percorso e la capacità anche dell'azienda di mettere in campo azioni anche rispetto alla partnership che abbiamo con il nostro partner industriale che era di avere un welfare aziendale di un livello molto elevato. Sono caratterizzazioni, i percorsi che l'azienda ormai da diversi anni sta mettendo in campo e dove i benefici sono sempre più tangibili sia da un punto di vista, come dicevo, lavorativo ma anche di condivisione di strategie all'interno del territorio.